Ciao a tutti ragazzoni, io sono Cupa07 e oggi ragazzi siamo in un altro mega video di Italia Bananata stagione 3 E oggi ragazzi siamo alla Villa degli Amanti che si trova a Lomello Questa qui era una villa un po' spooky, un po' spaventona, visto che tra poco sarà il periodo di Halloween Intentiamo già entrare, vediamo un po' quello che c'è dentro, poi vi parlerò un attimo della storia di questa casa La cosa curiosa è che vicino alla casa c'è anche una cascina che c'è il cancello chiuso Oh, turno, non? Oh, super, Democrats I'm going to try again Oggi ho ansia Io sono entrato, ho visto quella roba lì e sono cagato in mano perché se non vestito Lì c'è una bellissima, una bellissima candela Ma c'è un suo lettino dei passi delle voci C'è una finestra Non c'è, ah c'è Una specie di nuovo perché la paglia Ok questa è una finestra unorata Anzi no scherzo è una porta, sembra una porta Allora oh fuck sake, ci sono i sotterranei Allora, porto un camion Guardi Faccio una posa E' la villa di due che hanno fatto robe che poi si sono tipo ammazzati Quindi non è tipo un posto tranquillo Ma bello è il secolaccio Ma che bello che è Ma che bello Questa è una posa Eeeh Dei cami Ok mi c'è da da Ah Nice Bello 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 Qua c'è, scusami un attimo Allora Piccioni Allora qui c'è la pifuna per figliato perché Dio Cristo Piccioni Qua c'è da tipo un teatro Perché c'è C'è tipo come il tendone del teatro Ma c'è due piccioni Ma pensa un po' che gioia Ah no sono di più Ok le finestre Ok Ah no Qui mi sta crescendo bruciato Perché vedete che qua c'è segno di bruciatura Di lino Cosa curiosa di lino E' un cammino Perché nell'altra stanza quella del Seconda c'era un salotto Che era Giù di qui E' una macqua Ok Vediamo di qua cosa c'è Ah no è la parte dove Dove c'era il bagno qua Vediamo di qua Che fai le piccioni Ecco Ragazzi sapete cosa è la cosa più spaventosa di tutto quanto Questa qua E' una candela Il po' Cioè va ancora Si vede che è accesa E' stata tipo lampeggiata Ecco Non è una cosa tanto Carina questa Le scale sono queste Ma sono in una condizione Orrenda Infatti Da lì cominciano a tremare In una maniera assurda Quindi se qua cominciano a tremare La O cadono O Non voglio neanche immaginare Quindi Non voglio rischiare Perché Già qui Su questi Su questi qua Sentite Non so se Si nota dal dio Ma trema in una maniera assurda Sentite Come Come tremano Ok Chiudiamo Questa Bella porcia Giù di qua Per vedere se c'è qualcosa E se Se c'è qualcosa Ve lo mostriamo Qua C'era il terzo piano Che non sono riusciti A vedere Perché c'erano Le scale Come Beh Sapete Ok ragazzi Abbiamo finito di vedere questa villa Ma anche il primo piano Perché gli altri due Le scale E Io vi ricordo Ragazzi Di seguimi su Instagram Perché è una cosa fondamentale Poi di mettere like al video Di condividerlo Di iscrivervi Di attivare la campanella Questo qua è il mio Nome Nel profilo di Instagram E noi come sempre ragazzi Ci vediamo in un altro video di Italia Abbandonata Ciao ragazzi Ciao ragazzi